Cari amici telespettatori, il 27 giugno 2009 si lasciava il grande re del pop Michael Jackson al quale voglio dedicare questo video con tutto il mio cuore. È stata una grande stella della nostra musica internazionale, purtroppo scomparsa troppo presto in seguito ad un omicidio commesso dal suo medico personale. Ha avuto grandissimi successi dagli anni 70 fino agli anni 90 e oltre, ha venduto milioni di copie con Thriller nell'82 e molti altri successi che sono innumerevoli diciamo. Fu una grande stella della musica che vogliamo ricordare appunto con questo video. Inoltre vogliamo ricordare anche i suoi successi internazionali, i concerti in giro per il mondo e tutto quello che ci ha lasciato di buono. Una grandissima persona, oltre che grande cantante e compositore, un po' tutto insomma, anche grandissimo attore e tutto quello che vogliamo dire di Michael Joseph Jackson. Questo era il nome completo. Un grandissimo, a cui tutti abbiamo voluto tanto bene e che ricorderemo per sempre. Ciao Michael e grazie per le canzoni innumerevoli che ci hai regalato. Non ti dimenticheremo mai. Grazie a tutti. Grazie.